Effetti speciali Tech Find che piega Savona a 78 a 43 nella 2 femminile di basket, le padrone di casa non lasciano scampo ad una diretta concorrente per i play-off. La Tech Find si è abbattuta come un uragano superando l'Azimut Wealth Management Savona in una gara praticamente perfetta, orchestrata da granzotto e finalizzata da tutto il collettivo. Le sellergine non hanno lasciato scampo ad una diretta concorrente per i play-off arrivando anche al più 35, 5 giocatrici in doppia cifra, top scorer Ceccarelli con 21 punti, doppia doppia Pesrot ed effetti speciali firmati da Marta Granzotto. A parte i primi minuti di gara piuttosto equilibrati se Largius parte subito a vele spiegate, aggressiva in difesa, veloce e efficace nella metà campo offensiva, costruisce un primo parziale di 19 a 8 che poi allunga nel secondo quarto, chiuso sul 39 a 24, Consolotto 12 punti e Zanetti 11 già in doppia cifra. La terza frazione continua ad offrire le medesime percentuali dal campo, se Largius sfiora il 50%, Savona arriva al 26. I punti del San Salvatore arrivano dalle palle recuperate dai contropiedi, la difesa murerà anche Pobozzi, una delle migliori realizzatrici del campionato. Il terzo quarto finisce 58 a 37 quando la gara è già ipotecata, mentre nel quarto finale si abbatterà ancora di più la furia giallonera. Il parziale di 20 a 6 è eloquente, Ceccarelli chiude con 21 punti seguita da un'ottima srotto in doppia doppia, 19 punti e 15 rimbalzi e dagli assist della Gran Zotto che chiude con 13 punti e 8 assist. Il pubblico va in giubilo, 78 a 43 è il risultato finale.